Il tuo pavimento in legno non è più in condizioni perfette? Ravvivalo con Bona! Passo 1 Ecco tutto ciò che serve. Per saperne di più, visita bona.com Scegli tra diverse tonalità di olio. Rimuovi lo sporco libero. Inumidisci il pavimento con acqua. Applica abbondantemente a zone irravvivante per pavimenti da esterni Bona. Trofina, bagnato su bagnato. Usa una spazzola a setole dure o un'idropulitrice con la pressione al minimo. Sciacco con acqua e passa alla sezione successiva. Lascia asciugare almeno per tutta la notte. Se necessario, carteggia leggermente la superficie. Passo 2 Mescola bene il prodotto. Applica uno strato sottile di olio per mobili e pavimenti da esterni Bona sulla prima sezione. Evita la luce diretta del sole. Rimuovi l'olio in eccesso con un panno che non lasci pelucchi. Per maggiore comodità di applicazione, avvolgi il panno attorno a una scopa a setole dure. Continua ad applicare l'olio, procedendo per sezioni e rimuovi l'olio in eccesso. Dopo 24 ore, la danza della vita ricomincia. Passo 3 Sciacqua e spazia il pavimento regolarmente. Bona! Passione per i pavimenti in legno.